Un modo intanto per ringraziare assolutamente i vertici dell'azienda ospedaliere civico che come sempre dimostrano essere ai vertici di una struttura di eccellenza. Questo lo raccontano i tanti episodi, le tante storie di vita di bimbi, ma non soltanto che di uno all'interno della struttura e trovano accoglienza e cura. Un grazie all'associazione che ha voluto regalare ancora una volta un sorriso ai tanti bimbi, in questo caso del reparto di oncologia pediatrica all'interno della struttura, perché poi alla fine sono i piccoli gesti, quelli che vengono fatti con il cuore, che restituiscono il significato in questo momento della Santa Pasqua. L'occasione è gradita per augurare una Santa Pasqua a tutti. Chiaramente questa giornata di Pasqua, vicino alla Pasqua, in onore della Pasqua, dopo la messa, avere la possibilità di fare gioire i nostri bambini anche con queste piccole donazioni, per me è fonte di grande piacere e di grande allegria. E sicuramente chi in questo ospedale è talmente apprezzato dalla cittadinanza, non fa altro che abbrichino ulteriormente quelli che sono gli apporti umanitari nei confronti dei suoi pazienti. Da parte della Madonna di Soccorso volevamo ringraziare l'ospedale dei bambini, tutti i medici e i direttori che ci hanno concesso di fare questa piccola donazione, e ringraziare anche l'onorevole Figuccia per averci acconsentito a tutto questo. Ringrazio, come diceva il collega, tutto lo staff del Di Cristina, dal direttore generale alla direzione di gestione. Ringrazio fortemente all'onorevole Figuccia e Lars che ci ha permesso questa bellissima giornata di donare un sorriso ai più deboli che si trovano in ospedale.